La corsa più grande del mondo Per tutti ritrovo il vecchio stadio d'Orico e partenza davanti all'hotel Passetto. Impossibile parlare con i competitori troppo impegnati nella gara. Più facile invece scambiare una battuta con quanti hanno colto l'occasione della bella giornata di sole per godersi vivacità per una passeggiata. Ci abbiamo l'esperienza di nonno che è un campione, un maratoneta, campione provinciale, regionale, 80 anni, lo saluto, ciao nonnino e quindi loro seguono l'esempio. Buona passeggiata. Grazie, buona giornata. Per i bambini sì, tutto a posto, una competitiva perché loro non la possono fare però va bene così. Benissimo, benissimo, tutto ok. Quattro chilometri? Ma noi li facciamo, siamo giovani ancora noi. Non abbiamo passettini piano piano, però facciamo tutto, data e ritorno. Qualche problema per la viabilità visto che i maratoneti d'amatori hanno percorso un circuito cittadino ma poca cosa rispetto alla soddisfazione dell'amministrazione comunale. È una festa di popolo, di gente, di famiglie, la città è occupata dalle famiglie, questa è la cosa bella, c'erano pure i passeggini in giro e quindi è una soddisfazione per noi dell'amministrazione comunale collaborare con la UISP, 34esima edizione. Impossibile fornire al momento una graduatoria visto che la caratteristica più importante di Vivi Città è la classifica unica, un'innovazione ineguagliata. Partenza da ogni località alle 10.30, 12 chilometri da correre e compensazione finale delle differenze di percorso nelle città in cui si è corso.